Sì, sono bravo. Hanno insultato nessuno, hanno fatto quello che dovevano fare. Io credo alla giustizia, penso che hanno sentito quello che gli avvocati hanno detto. Speriamo che tutto vada per sé. La vediamo un po' più sereno questa sera? È la stessa domanda ogni giorno, allora non posso dire nulla, sono sempre sereno. Sì, questo sì, però...